Sarà il sindaco di Caltanissetta Roberto Gambino insieme al primo cittadino di Spica Innocenzo Lentini a rappresentare l'Anci Sicilia, Associazione dei Comuni Siciliani, all'interno della conferenza Regione Autonomie Locali, una conferenza permanente che rappresenta uno strumento di dialogo tra la Giunta regionale e gli esecutivi degli enti locali. Una nuova nomina che arriva nei giorni scorsi durante una riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'Associazione Siciliana, nella quale sono stati scelti anche gli otto amministratori componenti del Consiglio regionale. La nomina arriva dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di cui faccio parte, e arriva dopo l'impegno che c'è stato nelle trattative che ci ha visto i protagonisti a fine anno con il Governo centrale per ottenere i finanziamenti idonei per chiudere i bilanci di tantissimi comuni in Sicilia. Per cui è stata una lotta molto pesante che ci ha visto i protagonisti insieme al Presidente, a Luca Orlando, ma molti altri sindaci abbiamo fatto delle trattative e io in particolare mi sono occupato delle trattative con il Vice Ministro Castelli che obiettivamente poi è quella che ci metteva i soldi. Per cui abbiamo portato avanti questo e il Consiglio regionale ha pensato di delegarmi per la rappresentatività all'interno dell'organismo importantissimo che è governato da questa situazione. E tra le questioni cruciali per i comuni si inserisce anche il caro energetico che grava sui cittadini ma anche sugli stessi enti, un tema affrontato dal primo cittadino nisseno anche attraverso un video sui social. Convolge i comuni e di converso anche i cittadini perché è chiaro che qualcuno queste bollette dovrà pagarle. Noi abbiamo visto che da un punto di vista energetico noi abbiamo un impegno rispetto all'anno scorso esattamente del doppio. Quindi adesso dobbiamo cercare i soldi in bilancio, dobbiamo vedere cosa fare perché obiettivamente qualcosa dovremmo fare. Siamo obbligati a pagare. Come sono obbligate le imprese a pagare? Le imprese hanno tutto il nostro sostegno e i cittadini hanno il nostro sostegno. Quello che è il problema più grosso è che il Governo e il Parlamento in questo momento parla di sostegno alle imprese e alle cittadine ma non parla di sostegno ai comuni. E allora a questo punto noi alziamo la voce con Anci Sicilia e con Anci Nazionale per farci sentire perché è un problema veramente che andrà a minare i bilanci di tutti i comuni d'Italia.